Bentornati, bentornati sul canale, bentornati, dunque vince l'Inter in maniera anche larga, in maniera convincente, 4-0 al Salisburgo, un successo che sicuramente non resterà negli annali del calcio, però devo dire che lascia a Simoninzaghi una sensazione di compattezza, di amalgama, di identità, che un po' era quello che ci si aspettava, che si andava alla ricerca, soprattutto una condizione fisica crescente nei singoli, ma devo dire anche a livello globale. Quattro gol, diverse occasioni, un rigore clamoroso non accordato in avvio di gara sul tiro di Barella, ma è stata una partita totalmente tranquilla, su ritmi sostanzialmente blandi, che sostanzialmente, poi sempre sostanzialmente, ha visto l'Inter governare e comandare soprattutto nel primo tempo, nella ripresa un po' più al piccolo trotto, ma la differenza di qualità anche per via delle diverse assenze, comunque, soprattutto nel Salisburgo, si è vista, si è vista, si è vista. Il gol al ventesimo Mkhitaryan, dopo una pregevole, una veramente pregevole azione, che poi è sfociata sulla sinistra, con un cross preciso di Di Marco, per l'Armeno, che è insaccato sul primo palo, il raddoppio al quarantaduesimo con Acerbi, che è insaccato di testa da pochi passi su traversone da piazzato del solito Cialanolu. Nella ripresa, nel finale, settantaduesimo autogol di Bernardo, su torre di Dzeko per Mkhitaryan, che da pochi passi è stato anticipato in extremi, in sala disperata dal difensore austriaco, che ha messo nella propria porta, e poi nel finale, al novantunesimo, il gol di Carboni, tanto atteso dal pubblico di fede Nerazzurra, su cross di Gosensi spaccata, l'argentino è arrivato, palo gol, a chiusura di una prova, devo dire, convincente per i Nerazzurri. Facciamo un po' di cronaca, Dzeko, nel primo tempo, ha mancato un paio di occasioni, me le sono appuntate, al diciottesimo, tiro a colpo sicuro, troppo centrale, e poi alla fine, proprio al quarantacinquesimo, tutto solo, di fatto, ha mancato la rete. Al quarto, quel rigore di cui parlavamo, quindi proprio in apertura, tiro a botta di Barella, parato, di braccio, da un difensore austriaco. Al ventesimo, l'1-0 di Mkhitaryan, buonissima l'azione Cialanolu, Dzeko, apertura per Di Marco, e poi cross per l'Armeno, che è insaccato da par suo. Al trentaduesimo, ci ha provato Barella, tiro d'esterno, finito di largo, non di molto, in bella coordinazione, e poi al quarantaduesimo, appunto, il raddoppio di Acerbi, suppiazzato, conquistato da Skrinan in proiezione offensiva. Cross di Cialanolu, direttamente da piazzato, secondo palo, Acerbi, in dubbio a posizione di offside, ha insaccato nella ripresa. Durante l'intervallo, sono entrati Gosens e Aslani per Di Marco e Cialanolu, quindi Aslani, che ha preso il posto del Turco davanti alla difesa, con ai suoi fianchi Gagliardini e Barella, esterni Bellanova e quindi Gosens al posto di Di Marco, difesa, è rimasta quella praticamente quasi per tutto l'incontro, Skrinan, Acerbi, Bastoni, in Portandanovic, che ha lasciato il posto nel finale a Kordaz, davanti Dzeko e Mkhitaryan, quindi un 3-5-1-1, 3-5-2, insomma. Nella ripresa, dicevamo, un po' meglio il Salisburgo, che ha un po' alzato la testa, Conatea al quarantaduesimo ha sfiorato il palo da buonissima posizione, Poi al cinquantesimo un gol molto molto bello, con Scavetto su lancio in profondità di Dzeko, se non ricordo male, gol di Mkhitaryan, ha annullato per, anche qui, posizioni dubbia di offside. Al cinquantatresimo ancora Mkhitaryan, di fatto a porta vuota, su cross molto molto preciso di Gosens, ha spedito sul fondo, Mentre tra il cinquantesimo e il sessantesimo un doppio intervento di Andanovic a salvare la porta nerazzurra, interventi non troppo complicati, però comunque, sui quali Andanovic è riuscito a mettere una pezza e poi nel finale le ultime due occasioni sono state anche gli ultimi due gol dell'Inter che vi abbiamo raccontato, quindi al settantaduesimo l'autogol di Bernardo dopo la bella, bella azione che si è sviluppata da sinistra a destra con bastoni per Mkhitaryan, che bastoni è entrato dentro al campo, appoggio Mkhitaryan, Mkhitaryan che è venuto dietro a giocare palla, scaricato sulla destra per la corrente Bellanova, cross preciso per Dzeko, sponda di testa per Mkhitaryan che da pochi passi è stato anticipato e quindi autogol di Bernardo e poi al novantunesimo il gol di Carboni appunto su cross di Gosens. Per quanto riguarda i singoli, brevemente, mi sono piaciuti in particolare Cialanolu, ancora molto molto reattivo in quella zona di campo, molto lucido, molto geometrico e poi sempre sempre impattante quando si tratta di andare a costruire l'azione, ancora bene di Marco, ormai è diventata una piacevole conferma, qualità altissima col suo mancino, se non l'avete visto andatevi a rivedere il gol, il primo gol dell'Inter perché tutta l'azione è molto bella che poi si sviluppa sulla sinistra ma tanto passa dal suo piede, dal controllo che è mezza azione e poi dalla palla messa a giro precisissima per Mkhitaryan. Bene proprio anche l'Armeno, soprattutto a livello di condizione fisica e poi si comincia veramente a vedere quel Mkhitaryan che abbiamo apprezzato alla Roma ma anche in passato al Dortmund e al Manchester United. Forse non raggiungerà mai quei livelli raggiunti in Premier League però devo dire che questo Mkhitaryan da seconda punta, da interno di centrocampo, da giolli insomma può fare davvero molto molto bene a un Inter che ha bisogno, estremo bisogno anche delle cosiddette alternative ai titolarissimi. Poi nota di merito per Gosens. Mi piace sottolineare il piglio, mi piace sottolineare la serietà dell'esterno tedesco che si sta ritrovando, l'avevamo anche citato in questi giorni, qualcuno aveva detto Gosens resterà all'Inter perché sta tornando quello vero, devo dire che oggi anche rispetto alla partita di due giorni fa un ulteriore step in avanti, 45 minuti molto convincenti, l'avversario chiaramente era di blasone diverso, non parliamo appunto del Salzburgo, del D-Campions perché come vi ricordo aveva diverse assenze però al di là delle assenze se hai gamba hai gamba, se hai testa hai testa e quindi si è visto un Gosens molto vivo, molto reattivo e anche preciso quando si è trattato di arrivare sul fondo a mettere questi palloni, non solo l'assist per il quarto gol ma anche diverse iniziative personali e anche qualche pezza messa in fase difensiva. Quindi globalmente queste due amichevoli, devo dire, regalano a Enzaghi un Inter in salute, un Inter che mette nel mirino il Napoli, ci saranno ancora altri testi, il Betis, la Regina, quindi l'Inter e poi il Sassuolo per finire quindi l'Inter ancora è lungo il cammino che ci porterà al ritorno al campionato che ci sarà, ricordiamo, il 4 gennaio a Milano Inter-Napoli, big match di Serie A e di Serie A però è un Inter che dà risposte positive e possiamo considerare la stregua di amichevoli estive perché di fatto quello sono considerando proprio il gap di spazio che ci separa dall'ultima giornata di campionato a quella che aprirà di fatto la seconda stagione la seconda parte di stagione una sorta di clausura dei tempi argentini e per Enzaghi può sorridere 4 a 0 al Salisburgo un saluto